Un cordiale saluto ed una buona serata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 per traffico intenso in direzione Roma code tra Aglio e Calenzano, code a tratti in direzione Bologna tra Calenzano e Aglio. Sulla A12 per lavori è chiusa l'uscita di massa in direzione Livorno. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento A1 di Firenze in pruneta. Sempre per lavori è chiuso in entrata lo svincolo di Colle Valdelsa Sud in direzione Firenze. Sulla statale Aurelia è chiuso per lavori lo svincolo di Rosignano Marittimo in entrata e uscita in direzione Livorno. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!